Muguruza-Regina Da ranking, Muguruza-Regina, Giorgi Miglior Azzurra Garbine Muguruza è la nuova numero uno del circuito da. Luz Open, in archivio ormai da due giorni, conferma l'ascesa della spagnola, regina Vimbledon, signora a Cincinnati, e fermata a Flushin Meadows da una chvitova indemoniata. . Eliminazione dolce, la Muguruza riporta la Spagna sul trono, sfruttando la prematura uscita dell'Alep, K.O. Alvia con Maria Sharapova. 65 punti dividono le due contendenti, 6030 quelli della Muguruza. . A completare il podio, Elina Svitolina, in progresso di una posizione. La Ceca cede il passo, dopo una manciata di settimane da prima della classe. . U.S. Open, quindi Stephens e Kiss. Primo slam per Sloane, nobile cammino per Madison, finalista a New York e pienamente recuperata. . Un balzo notevole, la che insale quattro scalini e vede la top ten, è dodicesima. La Stephens, clamorosa la sua rimonta dal rientro ad oggi, è diciassettesima più 66. . . . Ai piani alti, da rimarcare la solidità di Venus Williams. Due finali slam, semifinale sull'Arthur Ascemino braccio di ferro con Sloane Stephens meno e quinta piazza del ranking. . 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 Solo 3, quindi, le tennista azzurre tra le prime 100 del mondo. Serve una scossa, serve un rapido ricambio per tornare a respirare tennis velito. . 1, Dena, Caroline Bozniaki 4647 0, Gbr, Joanna Conta 4528 0, Rus, Svetlana Kuznetsova 4410 9 cubico 1, Svk, Dominika Cibulkova 3770 10 cubico 2, Lat, Gelena Ostapenko 3502. .